Buongiorno, sono l'ispettore Jacques Luzot della Polizia Francaise. Sono Vincenzo Roccarasco Arcialubi Brancaleone. E si chiama? Vincenzo Roccarasco Arcialubi Brancaleone. Ah, è il suo nome, non una specialità siciliana. Lo ripeta? Vincenzo Roccarasco Arcialubi Brancaleone. E lui è il mio secondo, Gilbert Ponton, la signorina è Nicole. Nicole è in grado di fare a tutti un servizio completo, quindi disponete di lei senza complimenti.